Per prendere un biglietto, soltanto 300 biglietti, è una fortuna veramente che non si può descrivere, no? Credo che qua oggi ci sarà qualcosa di magico, mi dispiace che molto gente lo potrà vedere, ma qua ci sarà qualcosa di speciale. Io la vita la prendo con me, questo viaggio che parte da sé, che non chiede il permesso mai a me, io la vita la prendo con me, io la vita la prendo con me. Ho già fatto la cosa per una prossima a Roma, quindi... Io penso che questo concerto sia unico e indimenticabile. Grazie! Che non ricordo più, che effetto fa la vita, se te so ci sei tu, ti va di stare bene, che non ricordo più, che effetto mi fa il cielo, se te so ci sei tu, ti va di stare bene. Grazie! Grazie! Grazie a tutti.